Dopo quasi sei anni di matrimonio, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi si sono lasciati. Secondo D'Agospia, che lancia lo scoop a una vera e propria bomba, il matrimonio sarebbe giunto al capolinea. La bionda conduttrice al momento non ha confermato né smentito la rottura con il produttore. L'addio sarebbe avvenuto durante la quarantena, la Marcuzzi avrebbe salutato Paolo una ventina di giorni fa in pieno lockdown. Sui profili però tutto tace e i fan sperano si tratti solo di una crisi. Grazie per la visione!